La sindaca francese dopo la riunione a Lanci rilancia sulla vicenda rifiuti e gli impianti sul territorio un summit con il governatore De Luca. La prima cittadina chiede un incontro al fine di arrivare a soluzioni eque e non calate dall'alto, che tengano conto, come si era convenuto, di misure di accompagnamento e compensative a favore dei comuni ospitanti. Non si possono condividere norme che appaiono gravemente lesive della potestà e dell'autonomia degli enti locali e che sottraggono ai comuni ogni potere decisionare, in materia di opere pubbliche e di interesse strategico. È sbagliato che su temi sensibili per le popolazioni amministrate si proceda con atti di imperio, con veri e propri commissariamenti, mentre occorrerebbe dialogare con le comunità e i loro rappresentanti. Per questo motivo la sindaca ha chiesto alla regione di riaprire i canali dell'interlocuzione istituzionale, introducendo una flessibilità e rimodulazione anche sul piano della tipologia degli impianti. Grazie